Pace e libertà, guerra e memoria, ma anche la sicurezza nelle scuole e lo sport. Su questi argomenti si sono sfidati i ragazzi delle scuole, che a conclusione del concorso, promosso dal Ministero dell'Istruzione, sono stati premiati alla ex GIL di Campobasso. Un concorso che rientra nel progetto Scuola come strumento di pace. Disegni, poesie, temi, tenuti insieme da un solo filo conduttore, mettere al centro le persone e i rapporti pacifici. E la risposta degli studenti non si è fatta attendere, con un Molise che ha fatto davvero bella figura, come ha sottolineato Italia Martusciello, organizzatrice dell'evento. Noi abbiamo avuto diverse sezioni da premiare, la sezione del centenario della Prima Guerra Mondiale, la sezione dedicata alla sicurezza in memoria di Luigi Petacciato, fortemente evoluta dalla mamma di Luigi Petacciato, Nunziatina Porrazzo, anche laboratori, teatrali, ancora lo sport come strumento di pace. Ospitare questo concorso, ha dichiarato l'assessore all'istruzione Michele Petraroia, è stato per il Molise motivo di orgoglio. Per il procuratore del Tribunale dei Minori di Campobasso, la violenza è un fenomeno in preoccupante crescita. Per educare i giovani alla non violenza, ha affermato Claudio Di Ruzza, dobbiamo parlarne senza aver paura di affrontare questo argomento. Coltivate una passione, ha invece detto Antonella Iammarino, perché le passioni, ha spiegato la presidente dell'Unicef Molise, riempiono il vuoto che favorisce lo sviluppo della violenza. Dalla giornata del 43esimo concorso è dunque emersa l'importanza di promuovere la pace, soprattutto tra le nuove generazioni, ed è la scuola, è stato più volte sottolineato, ad avere il ruolo fondamentale. Proprio con progetti come questo, la scuola diventa lo stimolo, insieme alle famiglie, alle associazioni e alle istituzioni, per invogliare i ragazzi a collaborare al senso di responsabilità e al rispetto per le persone.